Tutti almeno una volta nella vita ci siamo sentiti profondamente insoddisfatti. Se stai guardando questo video è perché anche tu in questo momento ti senti profondamente insoddisfatta e vuoi cambiare la tua vita. Andiamo a vedere quindi come nasce l'insoddisfazione. L'insoddisfazione può nascere perché stiamo vivendo una vita che è la conseguenza di scelte passate che oggi ci vanno un po' strette. Può essere perché non vediamo un futuro in cui ci sentiamo contente, in cui ci sentiamo felici, soddisfatte. Un po' per noia perché magari la vita che stiamo vivendo appunto ci dà un senso di pesantezza, è una routine che inizia ad essere, in cui ci sentiamo anche un po' svogliate. Quindi anche questo ci può rendere soddisfatti. E poi anche perché l'insoddisfazione può nascere perché il risultato delle scelte che abbiamo fatto pensavamo che ci avrebbero portato ad un certo obiettivo, ad un certo stato da animo, di soddisfazione, gratificazione personale e non lo abbiamo raggiunto. Quindi questi sono i vari motivi, situazioni per le quali noi potremmo vivere un senso di insoddisfazione. Poi l'insoddisfazione profonda può nascere anche dal fatto che ci troviamo in un momento in cui magari non vediamo un senso a nostra vita. Quindi può essere un momento in cui ci stiamo facendo le domande molto importanti su noi stesse e vogliamo, diciamo, sentiamo che è il momento di cambiare la nostra vita. Sicuramente tutti gli scenari che ti ho presentato prevedono che tu oggi faccia una scelta, faccia delle nuove scelte. Perché? Perché è evidente che sei in una situazione di stallo. Anche io ci sono passata e quello che mi ha portato a sentirmi persa, smarrita, in una situazione di stallo, insoddisfatta, era che io avevo seguito, fatto tutto ciò che era giusto, tutto ciò che dovevo fare. Io sono stata, ero una ragazza che seguiva molto le regole, molto le regole, molto disciplinata. In quel momento, quindi, quando ho realizzato che i risultati di quelle scelte, seppur fossero giuste ed era il mio dovere, non mi avevano portato a sentirmi soddisfatta, contenta, gratificata, felice. Anzi, io ero triste. Io mi sentivo in gabbia. Ed è proprio in quel momento che ho capito che avrei dovuto cambiare la mia vita, fare delle scelte in cui, che sentivo mie, che non erano influenzate dagli altri, dal contesto, dal contorno, da quello che gli altri si aspettavano da me, che volevano. Dovevo, finalmente, diciamo, avere il coraggio di sentire di sbagliata per gli altri, ma giusta per me. E per iniziare a fare questo percorso, quello che mi ha portato proprio a trovare chiarezza, ad aumentare la fiducia in me stessa, a fare scelte importanti nella mia vita, è stato iniziare a fare ordine nella mia casa. La mia casa, e quindi qua ti faccio la domanda, guarda la tua stanza, la tua casa. Casa vuol dire dove vivi oggi, ma semmai, nel caso tu avessi fatto i traslochi, tu abbia cose anche altrove, anche quello è uno spazio tuo. Quindi guarda i tuoi spazi, dove ci sono le tue cose, e guarda come sono messe, sono disordinati, caotici. Molto probabilmente sì. Vale, quindi, lo stanzino, vale la tua seconda casa, vale la tua vecchia stanzetta, vale il tuo garage, vale dove ci sono le tue cose, ok? I tuoi spazi, e anche quelli in condivisione, perché comunque c'è un po', anche lì, un po' di te. E ti renderai conto che c'è confusione, caos. Devi partire dalla tua casa, perché riordinando la tua casa, tu riordini la tua vita. E questo è il percorso che devi fare. Tutte le persone che sono disordinate, bisogna capire che il disordine è la conseguenza. Cioè il disordine è la nostra casa, uno pensa, è ma perché il disordine è mettere a posto casa, quindi mettere a posto casa. No, il disordine è una conseguenza di ciò che non è andato, e di ciò che non va, e continua a non andare. Quindi, il primo passo è proprio mettere mano alla propria casa. Bisogna sapere come fare, perché grazie dei metodi, tu riesci a creare un ordine duraturo, che è quello che io insegno. Ah, finalmente che adesso ti mi presento, mi presento. Io insegno a fare ordine, a fare ordine nella propria casa, primo step, e poi nella propria vita, nella propria mente, con l'obiettivo di progettare una nuova vita per la nuova te. E io stessa sono, diciamo, un esempio del risultato, ok, di questo percorso, perché l'ho vissuto prima sulla mia pelle, e poi ho sentito un'esigenza fortissima, che è quella che mi porta tutt'oggi ancora, a parlarmi, a volerlo diffondere, è una missione proprio per me, il messaggio di quanto sia importante il proprio ambiente, di quanto l'ambiente ti stia dicendo, urlando, che la tua, che nella tua vita c'è qualcosa che non va, che c'è da fare ordine. E quello che devi fare anche te, quello che tu pensi, no, tu pensi, ma i problemi sono fuori, risolverli bisogna andare chissà dove. In realtà, è in casa tua, sia il problema che la soluzione. E anche tu, come le mie clienti, facendo il percorso giusto, ok, quindi con i passi corretti, e ottenendo risultati, inizierai a sentirti una nuova persona, ti sentirai nuova, rinata, inizierai proprio a ragionare in modo diverso, e il bello di quando si fa ordine, no, di quando si inizia a fare ordine in casa, è proprio il fatto che tu fai tantissime scelte, ne fai minimo 10.000. E questo allenamento ti porta poi ad essere pronta per fare scelte, le chiamo scelte coraggiose, poi nella tua vita, nelle situazioni, negli ambienti, nei settori, ovviamente, dove tu dovrai agire. Io ti dico, io sono partita, il mio, diciamo, il mio, la mia, la mia situazione era, che non, facevo sempre scegliere agli altri, infatti, non era un caso che anche il mio guardarobba, l'ho scelto per il 95% da, da mia madre, da chi mi faceva i regali e così, perché a me stava bene tutto. E io non sceglievo mai. Io ho creato il mio stile, dopo che ho fatto ordine, io ci ho messo, ho impiegato anni, a crearmi una mia personalità, un mio stile, nel modo di vestirmi, nel modo di tenere i capelli, di come, ma sì, di come comportarsi, di come parlare, di come sentirsi, no? E dopo che ho fatto ordine, quindi, io ho fatto ordine, prima sui mie spazi, nel mio ambiente, poi da lì ho lavorato sulla mia vita, sulla mia mente, per progettare la mia nuova vita, la mia, fatta per la nuova me. Ed è quello che devi fare anche te. Quindi, come puoi iniziare? Quali sono i primi passi? proprio per darti una sferzata di energia, di motivazione, per sentirti, finalmente, anche compresa, ascoltata, perché questo è sicuramente molto importante per te in questo momento, come l'è stato per me, ai tempi, e come l'è per tutti i miei clienti, è quello di partecipare, al mio prossimo evento. Qui sotto a questo video, trovi un link, che ti permetterà di avere informazioni, date, e tutte le tematiche che vengono affrontate, nelle tre serate che ho preparato per te, dove tu potrai, finalmente, trovare, innanzitutto, tantissime altre donne, che vivono la tua situazione. Sentirti compresa, capite, ma soprattutto andare a capire, come agire, come mai, la tua vita di oggi, quali sono degli errori che tu hai commesso, quali devi smettere di commettere, quali sono i passi, come tu dovresti comportarti, agire, da oggi in avanti, per cambiare la tua vita, per trasformarla, per renderla, come tu desideri, anche se in questo momento, forse, tu non sai, bene cosa vuoi, ti senti smarrita, confusa, non ti preoccupare, l'obiettivo è proprio andare a fare chiarezza, e capire insieme questi passi, e come anche tu, puoi fare questo lavoro su te stessa, per comprenderti, per fare chiarezza, per fare ordine, dentro di te, e nella tua vita, e vedrai che appunto, come io insegno, il primo passo sarà appunto agire sulla casa, poi sulla nostra vita, sulla nostra mente, per andare a progettare appunto, la nuova vita, per la nuova te. quindi, spero che questo video ti abbia dato appunto, delle, dei punti per ragionare, quindi ad esempio all'inizio del video, io ti ho detto alcune situazioni che potrebbero rientrare, tra i motivi per cui ti senti soddisfatta, e quindi fare una tua analisi, poi ti ho spiegato anche il concetto dell'ambiente, guarda il disordine, dov'è, quanto è, se c'è, in quali spazi, in quali case, e da quanto tempo per esempio, fatto questo, concorderai con me, che in effetti in casa tua, non ti senti al meglio, e che è uno specchio in effetti anche, di quando ti sei trascurata, di quanto non ti sei più valorizzata, non ti sei messa a primo posto, di tante cose accumulate, perché hai accumulato tante, tanto nel tuo passato, e tante situazioni ancora sono in bilico, aperte, in sospeso, non risolte, non chiuse, e, la, la tua, diciamo il primo passo che devi fare, è quello di iniziare a incontrare, a conoscere persone come te, sentirti ascoltata e capita, e soprattutto capire, quali sono i primi passi per sentirti più leggera, più, più tranquilla, più soddisfatta, più, più focalizzata, più focalizzata, trovare la tua direzione, trovare la tua strada, lo puoi fare, partecipando all'evento, vedrai che, ti darà proprio una carica, ma una voglia di agire, di fare, ti sentirei completamente, veramente piena, ti sentirei molto carica, ed è questo un aspetto, molto importante per te in questo momento, se devi fare una scelta, in questo momento, che ti direzioni verso, la strada, no, migliore per te, è sicuramente, questo evento, partecipa, gratuito, e poi mi dirai, mi farai sapere, se ti è stato utile, e come ti è stato utile, io, ti saluto, ti auguro un buon riordino, e, ci vediamo molto presto, ciao, al baromito. Grazie a tutti.